In una scuola, le classi sono suddivise in dieci sezioni e per ogni sezione alcuni studenti dei diversi anni formano una squadra di pallavolo. Durante l'anno scolastico, due squadre qualsiasi si incontrano due volte. Quante partite gioca una squadra in tutto l'anno? Questo è un problema. Per risolverlo, innanzitutto leggiamo bene il testo e individuiamo le informazioni note e le richieste. Scriviamo in uno schema tutto ciò che è utile. Alcune informazioni non forniscono direttamente un numero. Riscriviamole in modo da ricavare il dato. Osserviamo che la risposta alla domanda è il doppio del numero di squadre che ogni squadra può incontrare. Attenzione! Una squadra non può giocare contro se stessa, quindi bisogna considerare il numero totale delle squadre diminuito di uno. Questo dato è implicito, cioè non è scritto chiaramente nel testo, ma si può ricavare ragionando sulla situazione. Ora possiamo calcolare la soluzione del problema. Ogni squadra gioca 18 partite in un anno.